Siamo tornati in questo nuovo video di FIFA 17, Barcellona contro figlio, una grande serie e ci giochiamo la partita assurda proposta da Alessandro Torella, Barcellona, Stefano e io Benevento, una squadra di serie B, un pronostico facilmente intuibile, il Benevento vincerà la partita, è iniziata, Barcellona a Benevento però c'è, ti puoi pagare cazzino, voglio, siete proprio in fama, guarda l'anzimo, ora vuoi la palla quando arriva Benevento, c'è un cane di mezzo e lascia la stampa nera, distrai il Barcellona e li distrai Barcellona, sento odore di gol, sento che il Benevento avanza, ma dove va questo Benevento? Non lo so, però a me un parigio mi sta bene, continuate a scrivere nei commenti le partite che volete vedere e soprattutto chi deve giocare con quale squadra, io con quale squadra e Stefano con quale squadra, mi raccomando eh, dimmi, iscrivetevi al canale se volete ma non è obbligatorio, a chi vuole si iscrive, a chi non vuole no, ma chi se frega, ci divertiamo insieme, e vedo il Benevento che fa male, si segna un Barcellona e me ne vado, me ne vado, sai fare la tab? la tab? devi fare il triangolo e così no non faccio la tab, penso che non segnerò mai però se segna fai la tab ma che cazzo è questa tab? la tab è così vai, che tira questa palla, questo Benevento e premi X si, fallo tu, fammi vedere un attimo si fa così fa questo cross e che è, magari hai detto il cross, non hai passato e non funzionava e non funzionava, l'ho detto che non funzionava no, e devi andare all'imposto si, devi andare che ti ha già schiattato il corpo oh, ma che è ma Ron, che bocca, vicino male a me c'è sei guarda che tu sei in Barcellona ehi che fa? hai detto, come ti fai portato contro il Benevento? si ma io però sei da gioco Napoli Real Madrid più volte che ora dobbiamo vedere abbiamo la Coppa dei Campioni Napoli Real Madrid Napoli all'andata oh, chiappa peppa chiappa peppa no, se segna fai la tab ma chi è che ha tirato? all'accetta Sergio no, ma chi è che ha tirato? Bruschetta? no Bruschetta Giuseppe oh guarda qua guarda qua Bruschetta finta sulla testa ma che finta? non ho messi ma quando sei pittata i capelli ma in serio? fai che tabba guarda facci fare una bella tabba sei pronto? fai la tua uuuuuh un barcellona un barcellona uno Benevento Benevento l'attore i bambini bisogna farli vincere siiii Rakitic Rakitic o Kaiser o Kaiser intercetta il Benevento con grande prontezza ma è mannaccia a te ma può essere mai con Benevento aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah buisketta oh cominciano da l'altro vedi tu aaaaaaah grande grande io sono un barcellona non c'è questa vicinchezza che è grande stu scendo ci penso non esco piu' se non facevi questa ragazza te la ce l'ho d'arbo vabbè paratela che è inculata non si dice brutta quella ragazze tu l'hai detto inculata no no l'hai detto tu poi c'è la registrazione sentiamo stasera avevamo detto hai detto tu inculata non si dice si ma l'hai detto tu ma non si dice si ma l'hai detto tu eh ma non si dice si ma l'hai detto tu allora si no hai già segnalo no no eppa o dove oh eppa 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 bruschetta a bruschetta ed è una partita molto equilibrata il benevento mantiene molto bene le linee della difesa penso che prendiamo no nooo facciamo una data oh stazzita ora lo segno io cosa la faccio a fare un joystick mia la roba nooo nooo devo segnare? no no? no non vuoi che lo segno? no? ma io segnerò? futura? a porta tua eh è arrivata una doglie sai passi qua lilly noo lilly mi dà una scottrubba nei miei ahahah ma che partita è merda ragazzi mi hai delato ma sono più avvincenti queste partite vediamo la verità eh mi raccomando anche partite strane nooo nooo spaventatemi non mi sbaglio ero no Sergio no che hai fatto? ho sbagliato tutto alla alla richard benson spaventatemi è grande tu vuoi di un richard benson? chi è che lo conosce? il richard benson? tu sai chi è il richard benson? no non lo so però chi lo sa scrivetelo sotto i commenti eh il richard benson bravo diventatemi vai vuoi picchetto vai un baron oh chi si sta manzando? ma chi è? gross cioè gross però almeno quadrato no arriva il venimento spaventatemi mamma mia fai da fai da no me ne vado me ne vado me ne vado e c'è go c'è go ah vabbè si però se non ci sbagliava tutti quei tiri ma che tiri le aveva fatto? tiri assù da coda mamma mia posso cambiare la portiere? fa niente ma che fa niente come un portiere proprio ma ti vuol dire che il venimento sta giocando una grandissima partita si stima vabbè ma eh vabbè questa partita è proprio squilibratissima certo grandissima è più forte no è quello perché uno sa che è più forte ma c'è uno gioca più rilassato capi che dico? dai 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 grande dai ci parlate di chi mai dai dai ma cosa no io no ecco tu hai avuto 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 e ti ho vengono vado con questa scoperta ah no oh 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 eh ho pigliato un cazzo spaventatevi dai e fai la tabba grande si è visto chiaramente che l'ho lasciato segnare ciao ciao non ci basta segnare il chef Ma hai visto chiaro? Poi vediamo il replay, mi sono scostato di lato, mi sono scostato da un'altra parte Sì, vabbè, sì, in quel caso Che hai fatto qua? Ah, è finito prima di me Grande Benevento, spaventatevi! Ha da presto qua, Richard Benson, il grande Richard Benson, grandissimo musicista Che ha fatto la storia della pazzaria, della menomania Si chiama Riccio Benson? Richard Benson Richard Benson, Richard Riccardo Benson Sì, ma direi Ricciolini, come si chiama Ricciardo? Brava, battuta comica, tu comica non puoi fare proprio No, non è una battuta Cioè, proprio guarda, se fia comica tu, è assoluto No? Ah, ti hanno tutto il rumore neri No, l'ha detto, siccome si chiama Richard, tiene Ricciolini Eh? Ah? No, non mette Ricciolini Ah, meglio Eh, ma tu ti lanci per terra e per tipo Vai, 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 vai No, no, no! Tu non te la rovi Oh, guarda là, mi sbaglia! Ah! Dai, mi chiede, Paola, si potrà male No, cosa ho fatto? No, sbagliò Dai! No! Che hai fatto? Hai dato in bagno? No Ci divertiamo, ci divertiamo Chi vince vince, chi perde? Eh? Chi vince vince e chi perde? Palletta a dormire No, chi vince vince e chi perde? Perde Perde Più su a me, chi vince con questo L'importante non è vincere L'importante è perdere Che pierda tu No Capite? L'importante non è partecipare Potete è pierda tu È diverso Oh! Vai, benzo! Vado un Benevento, un E1 con il Barcellona Non so se mi spiego, non so se mi spiego Spiegati No! Sì E voi ragazzi, i vostri papà, giocano con voi? Giocano o non giocano con voi? Bisogna tirargli un po' le orecchie a sti papà, eh? E io ti devo fare un po' Ma si può essere un po' Non puoi segnare? Ma tu cazzo, signora? Intanto chiede le spalle e poi vengono con Benevento e vengono con Barcellona Eh? No ti faccio una bella... Basta, indici Barcellona Cazzo, a posto No, però non mi rompi i voglioni La moglie sciacca a dire, eh? Ma esce sempre la schermata del merda A me no Andiamo a fare la dub Wow, pallonetti Nooo Ma che se non hai neanche segnato Non c'è parata però, per me è una dub paratoria Oh, che è parata? Oh, maronna, che è successo? No, linea! No, due volte, non l'hai visto? Eh, linea però La seconda volta la linea Ma no No, vabbè L'assurdo che stai Guarda, pensavo che vuole Ma sei pure io Mh Bisogna essere onesti Pensavo che Stefano, questa volta Faccio un'altra volta la dub Faceva la dub Ma tu ti sognavo Faceva la dub Invece ha fatto la danza Ahah Non farete? No No Facci i battuti Per il livello tuo che vuoi fare Pssss Oh, confettino Eh, un figlio Io Guarda, bucchia, dove sta Pappo navale? C'era passata una guaglia No No, che ha fatto? Ok Io Ah, sì, tu non sapeva cosa Guarda, c'è uno flash Vediamo Oh, il benevento sta proprio da me Guarda Suare 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 Grande Suare Ma come cazzo fa? Tegar non fa proprio Stupratino Ma che cazzo? Tegar non lo fa Tegar Tegar la scivolata Ma come la vogliamo? No La scivolata Eh, non lo fa Vico Non è quadrato? Sì Eh, non lo fa Eh, carnetto, non posso scivolare Ufff Ufff Umaronna mia, umaronna Umaronna Fuori gioco Dai, dobbiamo fare un'altra dub Oddio Ti faccio fai la dub La cappellina Ti faccio fai la dub Vabbè Ancelo Grazie 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 per il passato Ma non la fai scivolare sui fratelli perchè in quel tempo non aveva dovuto fare questo nooo ma perchè non funziona più il quadrato perchè...impostazione ma perchè non ho preso questi cazzo di impostazione io che ne so, io non posso niente se tu lascio il gioco e sticco normale poi vieni a fare impostazione non funziona il quadrato non fa neanche il grosso hai capito? nooo che cosa? devo cambiare i giorni, il grosso non posso fare praticamente sto Giovanni senza grosso e senza... nooo ah nooo senza grosso e senza scivolata sto Giovanni con il benevento mamma che paura con il barcelone nooo è nei mar stai chiedo a mare nei mar lo fa battuto due ti vedete? ti vedete? ti vedete? ci vedete? ma non si va a sentire i cazi di gioco no tutti uno ma è uno? che è una città di gioco nooo due uno blu buttato questo non funziona più prima funzionava che è successo? oh e chissà Enrico ma Enrico nooo peccato devo cambiare gioco il piccolo adesso no voglio militare a me mi serve un pericolo un pericolo pericolo e che stanno sparando e ora non posso crossare perché questo non funziona e chi ha di a chiamare stavola che chiamano? che cavolo di culo tengo wish wish e Merry Christmas ahahah ma c'è stato non c'è un gioco segreto questo ogni parte non posso sentandare dai dai e facciamo il culo buschetto ma dopo quanti coli quanti coli sei pericolo ma che te mangiare nooo ho detto il culo ho detto non ci credo da laggiù hai detto troppe cose ma si è troppo forte ma come la passa? ehm la passa al cussino non ci capisco non ci capisco mi fai veramente po' con il poccio capice no veramente po' con il poccio capico non ci capisco Fai la tabba dai! Non funziona il joystick, non funziona Usarei tu? Usarei tu, non funziona Ora mi comprerò un joystick solo per me Venga giù se gioco su, che è impossibile Usarei tu? Ho sponato 30 joystick Usarei tu, questo è un po' forte Se non funzionavano il joystick per me Dai grande Facciamo anche il 3 a 1 Dai facciamo anche il 3 a 1 Finita E vinciamo ragazzi E' finita la partita Stefan vince la partita Ci vediamo al prossimo match Sperando che ci sia un joystick migliore E ci saranno risultati migliori E' finita la partita Il Benevento doveva perdere Si però anche se io avevo un vantaggio Si? Vantaggio di che? Dal joystick? Ehm Ehm Ma del Barcellona già è un vantaggio Quindi due vantaggi Vabbè Non fai niente Allora ci siamo divertiti Sei divertito? Si però proprio il Benevento Benevento è una bella partita Mi raccomando E' partita impossibile Io voglio le squadre più impossibili Pure di Sevici no Lui vuole le squadre proprio scarse E io voglio proprio quelle forse Però io volevo almeno un joystick che funziona Vabbè Alla prossima Ci sentiamo Ciao ciao